Route 21 è una bellissima esperienza dove la moto è protagonista, protagonista di un viaggio che ha inizio a Palermo e dove i protagonisti sono ragazzi diversamente abili che in questo viaggio hanno riscoperto la normalità. Vediamo i dettagli dell'iniziativa sentendo i protagonisti. Giampiero Papasodero, motociclista, arleista, siamo all'ottava edizione di questa Route 21 Cromosoma on the Road. Spieghiamo un po' questa iniziativa. È un'iniziativa nata nel 2015, in seguito a una mia intuizione che ebbi dopo dieci anni di volontariato in giro per altre associazioni. È un viaggio, è partito come un viaggio, adesso è diventato il progetto di punta della nostra associazione che si chiama Diversamente che prevede un viaggio a staffetta di sei ragazzi affetti dalla sindrome di Down e questo viaggio non parla, come si potrebbe intuire, di disabilità, non parla di inclusione, ma parla di normalità in quanto noi amiamo vedere le persone per ciò che sono e non per ciò che hanno. E quindi in pratica tirando fuori l'uomo che cerca di contrastare la malattia che l'ha scelto abbiamo scommesso che trattando queste persone con normalità potessero rispondere con normalità in un mondo che è ovviamente un po' sopra le righe, che è quello degli arleisti. La normalità è il concetto più aleatorio che esiste, per cui abbiamo fatto proprio di questo la nostra arma per poter dimostrare a tutti quanti che si può fare e l'abbiamo fatto. Non parliamo di inclusione perché è una parola che io personalmente detesto perché si parte da un presupposto di esclusione per poter parlare di inclusione, ma parliamo di opportunità. Noi attraverso la nostra associazione facciamo orientamento e formazione dei nostri ragazzi dopo averli in qualche modo seguiti e aver capito quello che vogliono fare e vogliamo dare l'opportunità non a loro ma a noi perché riteniamo che queste persone possano soltanto tirar fuori la parte migliore delle persone che hanno intorno. Noi vogliamo prendere i ragazzi e farli vivere l'emozione che vive un biker facendo un viaggio e questo viaggio comporta comunque interazioni, ogni tappa poi ci sono dei incontri nuovi con dei amici e anche naturalmente dall'altra parte tutti gli imprevisti che si trovano lungo la strada e così anche quando si ritrovano con gli amici che hanno incontrato l'anno scorso praticamente fanno parte del gruppo ed è una sensazione che li fa anche crescere, li dà autostima e li fa sentire parte integrata. È tutto per questo profondimento oggi, potete seguirci sui nostri canali social e su lombardianotizie.online Grazie